L'erba del vicino è davvero sempre più verde? Vita fuori dall'euro vi porta nel cuore del Regno Unito, il paese che ha detto di no all'Europa. Ogni settimana ha un tema diverso per conoscere questa nazione al di là degli stereotipi. Questa settimana parliamo degli aiuti all'arte e alla cultura.